benvenuti alla nostra serie verificate la vostra virilità questa è la cassetta odio numero 1 occhio all'apparenza sei vestito in modo adeguatamente virile? molto sei pronto a impegnarti? si ti senti tranquillo? sei un vero uomo? si alzati in piedi stai bene eretto? scusa sei per caso una teiera? tirati fuori la camicia solo da una parte ti da molto fastidio vero? ma certo guarda qua tu vuoi essere preciso vuoi essere ordinato sistemati non i capelli il pacco femminuccia i gioielli di famiglia acchiappali bene sei in un bar ok ripeti con me au au bella fica bella fica bella fica che deliziose tendine che deliziose fregato oh porco capisce siamo arrivati al punto più critico del comportamento virile quale? ballare si i veri maschi non ballano oh ma dai in nessuna circostanza questo sarà il test finale evita ad ogni costo il ritmo la grazia è il piacere fa quello che ti pare ma non ballare non balla lo senti? si lo senti il demone? balla sussurra il demone tutti gli altri ballano ci danno dentro si scatenano si divertono ma tu no no fatti contagiare dalla febbre senti il calore della musica disco ti chiama tu non ascoltare gli uomini non ballano non lavorano bevono hanno la schiena a pezzi ma non ballano sapete? trattieniti fa qualsiasi cosa ma non ballare ma che fai? smettila di ballare razza di ballerina smettili a ditare quelle mani non mi senti femminuccia? fiatala smettila di dimenare le chiappe si uomo prendi a calci prendi a cazzotti mottica l'orecchio a qualcuno fermati riprenditi pensa a John Wayne ad Arnold Schwarzenegger Arnold non balla non riesce a malapita a camminare smettila 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 di ballare allora com'è andata bambolina? che puto Grazie a tutti.